Ben trovati amici di Globus Television da Rosalia Passamonte. Ecco la prima notizia del giorno. Bellezze e misteri etnei saranno protagonisti in TV stasera giovedì 30 novembre alle 21.25 su TGS, canale 15 del Digitale Terrestre. Nella trasmissione Tesori condotta da Salvatore Fazio che racconta con interviste e reportaggi patrimoni culturali e paesaggistici della Sicilia. In questa puntata, misteri e bellezze sotto l'Etna, un intrigante viaggio sotterraneo tra misteriose forze della natura. Una speciale casa della Madonna, prodotti predigiosi per la salute e gustose ricette culinarie locali. La trasmissione andrà poi in replica giovedì 7 dicembre alle ore 23.55 sempre su TGS. Consegnati riconoscimenti Ofele a premio all'eccellenza professionale istituta da Ristoworld Italy, l'associazione di cucina e ristorazione, preseduta dallo chef catanese Andrea Finocchiaro. La cerimonia ha concluso la Kermess Italiana Style, il concorso nazionale di cucina promosso da Ristoworld che ha visto gareggiare al centro Sicilia scuole alberghiere, cuochi, pasticceri, intagliatori e barman provenienti da tutta Italia. I vincitori chiamati sul palco da Marche Proietto di Silvestro, direttore Risto News Ristoworld, e da Claudio Leocata, responsabile nazionale pizzeria Ristoworld Italia, che hanno letto le motivazioni di conferimento e tracciato brevemente il profilo personale di ogni singolo partecipante. Un momento durante il quale vogliamo sottolineare i valori della persona e del professionista, commenta Andrea Finocchiaro, e il premio Ophelia perciò rappresenta un riconoscimento associativo molto ambito. Complimenti a tutti. Teatro. Sabato 2 dicembre 2017, alle ore 18 in scena alla Sala Roots a Catania, lo spettacolo Sonnillina, testo, marionette e regie di Antonella Caldarella, produzione La Casa di Creta. Lo spettacolo, particolarmente adatto ai bambini, dai 3 agli 8 anni, con Antonella Caldarella e Steve Klaib, è una fiaba musicale in cui le difficoltà dei bambini piccoli ad affrontare il momento di addormentarsi, sia la paura del buio, sia per il distacco dei genitori, viene affrontata in un modo teatrale e coinvolge il pubblico grazie alla clownesca fisicità dei due buffi narratori. Cambiamo argomento. Il ruolo dei sistemi cooperativi è il modello della Smart Community. È il titolo dell'incontro che si svolgerà il primo dicembre, alle ore 10.70, al centro Zoo. Il contenitore di idee è lanciato da Conf Cooperative per guardare alla Sicilia dei prossimi 20 anni allo sviluppo sostenibile e vedrà protagonisti Gianluca Cristoferetti e Gianni Lodi, autori del libro H2H Human Revolution, nonché esponenti del mondo delle cooperative di Conf Cooperative Sicilia. Le aree per i cani sono da sempre sinonimo di civiltà e pulizia. Civiltà significa anche lotta al randagismo, alla trascuratezza dei padroni. È per questo che a Catania si chiede a gran voce una comune area di sgambamento negli spazi della Villa Bellini. È promotore di tutto questo il catanese Alessandro Costa, che spiega che i benefici di un'area a sgambamento per i cani sono molteplici, prima fra tutti quello di aiutare il comune di Catania a creare un protocollo per eventuali e altre future richieste di zona a sgambamento dei cani, che siano esse al centro della città o nella stessa Villa Bellini. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per la vostra attenzione. Alla prossima edizione. Arrivederci. Grazie per la visione. Grazie per la visione.